Grazie mille a tutti e benvenuti, è un piacere vedervi e accoglio qui nella nostra bellissima Sarnico, un ringraziamento al Presidente Rocco, fatevi un applauso, e a me Lucia Candesti, un altro applauso, che ha aiutato ovviamente a fare questa bellissima Kermesse. Ci troviamo nel nostro meraviglioso Sarnico, uno dei paesi più belli d'Italia, bandiera arancione del Touring Club, ed è legata ai motori non solo per le macchine, anche perché abbiamo queste bellissime macchine oggi presenti, le vostre Porsche, ma abbiamo fatto tantissime Kermesse di assoluta qualità, tra cui la Copa Mazzogli e tutto il resto, ma abbiamo Sarnico con i cantieri navali e riva che voi conoscete, che non potrete visitare, e quindi da qui da Sarnico sono uscite le barche più belle del mondo. Il mito della velocità e del motore, che lega appunto le vostre auto, le bellissime Porsche, auto di design meravigliose, a tutto quello che abbiamo fatto anche noi, corviva per Sarnico. Quindi farei un applauso alle nostre bellezze, l'Italia, come il più bello del mondo, abbiamo un sacco di bellezze incredibili, dobbiamo continuare a valorizzarle, soprattutto nel design e tutto quello che faremo e continueremo a fare tutti insieme. Io vi accolgo molto volentieri, so che alcuni di voi non sono della zona, vengono da lontano, tanti, da maggior parte, e questo è un modo anche per pubblicizzare le nostre bellezze della nostra Italia, del nostro territorio. Io sono davvero felice di accogliervi e quindi viva Sarnico, viva la Porsche e viva tutti noi. Grazie mille. Grazie.